Le cose ci posseggono. Questa è una fotografia che scattai qualche anno fa alla dentiera di mio nonno. Ma non facciamoci ingannare dall'apparenza, perché anche se la dentiera è immersa in un bicchier d'acqua, non risente assolutamente dell'influenza del nostro dominio su di essa, proprio perché è un oggetto. Anzi, paradossalmente è l'inverso. È lei a manovrarci, tanto da farci un ghigno. Infatti siamo proprio noi a dare vita a cose inanimate, creando dei legami affettivi, emozionali, a volte eccessivi, dai quali poi è difficile distaccarsi. La dentiera, come simbolo della nostra sfera materiale, ci sta deridendo, perché sempre più vincolati dal desiderio di possesso. E riguardo al desiderio di possesso, all'attaccamento alle cose, vorrei riesumare un'esperienza datata a 2011, che ha per luogo una stanza e gli oggetti al suo interno con cui siamo soliti relazionarci. Questa stanza si trovava in Malesia. Io mi trasferì là per tre mesi, condividendo un appartamento con un ragazzo malesiano. In quel periodo viaggiai molto e utilizzai quella stanza proprio come campo base per le mie spedizioni, e quindi non diedi molta importanza all'arredamento interno. La mia camera era scarna, non aveva fronzoli, era essenziale. Aveva un materasso da una piazza e mezzo buttato al centro stanza, un tavolo e una sedia. Non c'erano armadi o scaffali in cui potevo riporre vestiti o parte dei miei oggetti. E quindi dopo qualche giorno decisi di comprare due piccoli comodini, che assemblai uno sopra l'altro per ricreare una specie di scansia. E a fianco a questi avevo posto a terra la valicia con cui ero partito, utilizzandola anche questa come un ulteriore contenitore. E proprio il fatto di non averla riposta da qualche altra parte, lontano dallo sguardo, ma averla tenuta nella camera e avendola addirittura attribuito una seconda funzione, Beh, quella valicia mi ricordava che lì ero passeggero. Era come un appunto di viaggio che mi rendeva dinamico e sprono all'avventura. E inoltre quella valicia mi aveva riportato alla realtà e allo scopo per cui ero andato là, ossia lo scopo di viaggiare, conoscere e conoscermi. E tutto questo mi ha fatto pensare e reso consapevole che dovremo tutti sentirci più transitori, come l'essenza della vita stessa, e vivere i giorni come fossero dei grandi mandala in cui sentirsi sempre di nuovo nuovi. A fianco a questa stanza ce n'era un'altra ed era il bagno degli ospiti. E anch'esso, come la camera, era molto minimale. Il bagno rispecchiava perfettamente la funzione per cui era stato costruito, costruito, ossia per lavarsi e fare i propri bisogni. All'interno c'era un soffione per la doccia, un water e un lavandino. Ma questo lavandino era rotto, le tubature sotto al lavavo non funzionavano e come fine corsa per l'acqua a terra c'era un secchio per lo straccio che raccoglieva tutta l'acqua che sgorgava dal rubinetto e che dovevo quindi vuotare ogni volta che si riempiva. E quindi dovevo sostituire il lavoro che il progresso aveva fatto sempre al mio posto e questo un po' mi turbava. Uno perché dovevo maneggiare dell'acqua sporca e due perché era anche una gran perdita di tempo. Ma col passare dei giorni riuscii a trasformare quell'apparente disagio in una grande esperienza. Ossia riuscii a utilizzare sempre meno acqua al giorno potendo vedere il mio consumo nel secchio. E quindi quel secchio per lo straccio era diventata una sorta di feedback era diventato un misuratore e quell'azione che svolgevo nel bagno mi restituiva un senso di appartenenza perché mi faceva sentire più autonomo e più partecipe del mondo perché stavo facendo del bene in maniera semplicemente più naturale. E questo mi ha reso consapevole che dovremo avere molti più riscontri molti più feedback in tutti i nostri piccoli gesti quotidiani per renderci appunto consapevoli delle nostre conseguenze perché a volte la tecnologia ci nasconde il diatro le quinte per questioni di business ma basta essere più presenti. Inoltre sono convinto che lo sforzo che ci divide dai nostri obiettivi finali sia direttamente proporzionale a una conseguente realizzazione e che senza di esso si possano assaporare solamente delle vittorie superficiali. Quindi se fra tutte le stanze in cui ho vissuto io ricordo in particolar modo proprio questa è perché le circostanze avevano reso possibile una trasformazione interna e mi avevano fatto prendere le giuste distanze dalle cose che di solito mi possedevano.